Pasquale Mazzella ci troviamo al borgo di Schiaponte per la mostra dedicata alla banda musicale Città di Ischia in occasione del terzo festival Vincenzo Buono che si è concluso proprio. Ieri vediamo delle grafiche che tracciano un po' la storia della banda. Tutto nasce dalla banda stessa. Loro hanno visto i miei disegni, le mie grafiche e hanno di loro spontanea volontà deciso di sceglierne una e farla diventare icona del festival di quest'anno. A me è sembrata un'idea geniale, molto bella, infatti ho apprezzato molto questa cosa. Descriviamo appunto l'icona che è stata scelta, che ha tutta una storia. L'icona che è stata scelta è quella relativa alla cassa armonica, la tradizionale cassa armonica che si trova in tutte le piazze quando la banda si esibisce, le bande si esibiscono. La mia non è la storia della banda disca, è la storia delle bande e quindi loro hanno apprezzato anche questo aspetto. Io ho inserito la banda con diverse modalità e l'ho anche caratterizzata con il mare, che noi conosciamo bene la banda e il mare. Per noi la banda è il mare durante le manifestazioni sacre, che sono le tradizionali processioni sia di Santa Restituta sia di San Giovanni Giuseppe a Ischia Ponte. Quindi a me sta nel mio DNA l'idea della banda, della banda che suona per mare, della banda che suona per terra, della banda che dà gioia, che dà felicità. E questa chiaramente è l'idea portante di questi miei disegni. Ecco, lei è un parente del maestro Mario Mazzella e non a caso la mostra viene esposta qui nella galleria che era il suo tempio. Sì, io per questo devo ringraziare profondamente Luca, mio cugino che mi ha ospitato in questa cosa. Per me è un valore aggiuntivo questa cosa qua. Per me è come un tempio sacro, veramente, la galleria di zio Mario. E qua zio Mario, anche con la banda, ha una sua tradizione. La banda, in passato, mi ricordo quando ero piccolo, in uno di quegli eventi di San Giovanni Giuseppe, se ricordo bene, pioveva. E lo stesso zio Mario diede l'opportunità alla banda di suonare all'interno di questa galleria. Quindi questa galleria ha ospitato, è stata la cassa armonica della banda per una serata. E questa, diciamo, nei miei ricordi segna ancora di più, diciamo, questa cosa. Non posso che ringraziarlo, ripeto, sia la banda che ha scelto me per il festival, sia Luca che mi ha ospitato, e sia qualora che sono venuti a visitare l'esposizione, che tra l'altro, diciamo, ha ottenuto pure un discreto riscontro sociale, sui social, tra Facebook, Instagram e quanti frequentano queste piattaforme. Io non posso che ringraziare loro, i ragazzi della banda, la direzione della banda. Spero che negli anni prossimi saranno sempre, diciamo, attenti ai miei disegni, che possa in futuro anche essere di nuovo un'icona o, diciamo, un logo per un ulteriore festival degli anni successivi.